Hanno iniziato le lezioni presentandosi con un semplice Io mi chiamo. Sono i 192 ragazzi cinesi arrivati all'Università di Pavia grazie ai programmi di scambio Marco Polo e Turandò e che fino ad agosto studieranno lingua e cultura italiana. È l'internazionalizzazione, no? È una manifestazione di questa tendenza che ci coinvolge non soltanto con riferimento alla Cina ma anche con altri paesi. Stiamo studiando delle strategie per renderla sempre più efficace. Hanno tra i 18 e i 20 anni, arrivano da ogni parte della Cina e all'Università di Pavia hanno già cominciato a seguire lezioni interattive di grammatica e fonetica ma anche di storia, geografia, arte e musica. Rafforzeranno la conoscenza della nostra lingua dialogando con studenti italiani in conversazioni tandem. Un corso completo in preparazione dell'esame per la certificazione di lingua italiana B1. Aderiamo a un grosso progetto di internazionalizzazione nazionale che però a Pavia ha avuto particolarmente successo. Quindi Pavia ha dimostrato di essere una città che ha la possibilità di accogliere studenti come campus, di avere quindi dal punto di vista dell'accoglienza degli stranieri qualcosa di più di altre università. Gli studenti cinesi non solo vivranno la vita universitaria pavese ma hanno già pianificato per ogni weekend visite nelle principali città italiane. Gli studenti cinesi non solo vivranno la vita università di internazionalizzazione nazionale. Gli studenti cinesi non solo vivranno la vita università di internazionale.